Nella nostra letteratura si trova ben poco che tratti dei sette sentieri che si aprono davanti all'uomo che giunge alla quinta iniziazione. È naturalmente impossibile ed anche inutile trasmettere alla nostra mente qualsiasi nozione sul loro significato o sugli attributi necessari per percorrerli. Col passare del tempo, pervenuti ad un livello di evoluzione più elevato, saremo in grado di comprendere meglio, ma in base alla legge di economia per gli istruttori dell'umanità sarebbe un vano sforzo presentarci le caratteristiche necessarie per percorrere i sette sentieri prima che abbiamo appreso e sviluppato quelle richieste per superare il sentiero della prova, per non parlare di quello dell'iniziazione. È un fatto accertato che prima di potersi incamminare su questi sentieri l'uomo deve essere un maestro di saggezza, un fratello di compassione, capace di applicare la legge con intelligenza e amore. Per il momento dobbiamo pensare a prepararci a seguire il sentiero dell'iniziazione con la disciplina di quello della prova, dirigendo attentamente la nostra vita, obbedendo alla legge nella misura in cui la comprendiamo e servendo l'umanità. Conseguita la liberazione, questi sentieri si apriranno davanti a noi e sapremo esattamente quello che dovremo scegliere. In questo sistema solare tutto opera in base alla grande legge di attrazione e perciò, con ogni probabilità, la scelta dipenderà dalla nostra vibrazione, dal nostro colore, dalla nostra tonalità. La maggiore libera volontà del sistema cosmico ha delle limitazioni esattamente come la volontà del sistema solare di cui facciamo parte e il libero arbitrio dell'uomo. La direzione del nostro ulteriore progresso dipenderà dalla qualità innata. Possiamo elencare i sette sentieri nel modo seguente e trarne alcune deduzioni secondo la legge di corrispondenza, purché teniamo presente che le parole tendono a confondere più che a chiarire e che è possibile indicare solo alcuni dettagli. Primo, il sentiero di servizio alla terra. È il sentiero che mantiene l'uomo legato alla gerarchia, che è consacrata a servire il nostro pianeta e ad aiutarne le evoluzioni. Esso comprende coloro che operano diretti dal Signore del mondo nei sette gruppi formati dai maestri di saggezza. I maestri di questo sentiero sono meno numerosi di quelli che ne seguono altri e possono percorrerlo soltanto quanti bastano per aiutare in modo soddisfacente l'evoluzione planetaria. Questo sentiero è noto meglio degli altri e tale conoscenza diverrà sempre più vasta via via che i membri dell'umanità entreranno in contatto con la fratellanza. Il suo campo di attività e i suoi metodi di lavoro diverranno conoscenza esoterica e quando i sette gruppi saranno noti e riconosciuti come conseguenza logica nasceranno le scuole per formare gli elementi adatti a far parte di quei gruppi. Secondo, il sentiero del lavoro magnetico. Seguono questo sentiero coloro che dirigono le forze o il magnetismo elettrico ad uso dei grandi esseri di tutti i piani. Essi dirigono l'energia formativa elementale manipolando sostanza di ogni densità e vibrazione. Essi si occupano delle grandi ondate di idee e delle correnti di opinione pubblica nei livelli astrali ed anche nei livelli più elevati dove operano i grandi esseri. Numerosi appartenenti al quinto raggio, coloro il curaggio monadico è quello della conoscenza concreta, passano a questo campo di azione. Generalmente la linea di attività è determinata dalla qualità inerente alla monade e il karma del quinto raggio è uno dei fattori di tale determinazione. Queste monadi operano con foat e devono continuare fino al termine del manvantara maggiore. Alla fine si stabiliscono sul piano mentale cosmico, ma poiché il pensiero astratto è ancora poco sviluppato, è impossibile comprendere il significato di questa espressione. Terzo, il sentiero per divenire logoi planetari. Questo sentiero è seguito da coloro che assumeranno le mansioni dei sette logoi planetari del prossimo sistema. Di 49 logoi subplanetari loro assistenti, nonché di altre entità operanti in quel settore particolare. Vi saranno sette sistemi, sebbene a noi interessino solo i tre maggiori di cui l'attuale è il secondo. Ogni chohan di raggio istruisce in modo specifico per tale lavoro un certo numero di iniziati della sesta iniziazione. Predispone a tale scelta la particolare inclinazione per il suono ed il colore e la capacità di lavorare con la psiche, ossia gli spiriti in via d'evoluzione, che rende particolarmente atti a questo compito elevato. Potremmo dire che i logoi planetari sono gli psicologi divini e perciò la psicologia è lo studio fondamentale di questa preparazione, sebbene si tratti di una psicologia ancora inconcepibile. Ogni logos planetario sul proprio pianeta possiede le scuole per logoi subordinati, dove essi vengono preparati a quell'alta mansione con le occasioni di vasta esperienza loro offerte. Anche i logoi evolvono e i posti che lasciano vacanti devono essere occupati da altri. Quarto, il sentiero verso Sirio. In relazione a questo sentiero si può comunicare molto poco ed è possibile accennare soltanto al suo stretto rapporto con le pleiadi, ogni ulteriore speculazione essendo impossibile. La massa dell'umanità liberata lo percorrerà e ciò prospetta possibilità gloriose. Le sette stelle delle pleiadi sono la meta per i sette tipi e vi si accenna nel libro di Giobbe quando al capitolo 38 versetto 31 è scritto. Puoi tu legare il dolce influsso delle pleiadi? Nel mistero di questo influsso e del sole Sirio si cela la realtà della nostra evoluzione cosmica e perciò incidentalmente del nostro sistema solare.